Buon samurai a tutti. Marzo 1976, marzo 2021. 45 anni di samurai in edicola senza mai fermarsi durante il periodo di tanti anni. Cosa abbiamo fatto in tutti questi 45 anni? Tanto, poco, tutto è da valutare, ma una cosa importante è che il samurai si è sempre messo a disposizione di tutti, realizzando manifestazioni, organizzando campionati, manifestazioni tra i quali la nostra diciamo così lucciola, stella polare più bella è stata la Pasquale Budo. L'abbiamo lanciato la kickboxing ad esempio, che abbiamo avuto al nostro ospite per tanti anni. Abbiamo avuto gli inserti del pugilato. Abbiamo fatto tante cose con samurai in questi 45 anni, che anche noi facciamo fatica a ricordarci di tutto. L'importante è tenere in considerazione una cosa, in questo momento difficile, terribile per tutti, dove club, dojo, palestre e piscine sono chiuse, samurai ha fatto fatica, fa fatica a realizzare tutti i mesi il proprio potenziale e andare in edicola, però è un'impresa, non solo perché vogliamo, ma perché ci è dovuto, dobbiamo esserci, perché noi siamo il vostro portavoce, è la vostra rivista, è la vostra rivista che ci ha permesso, grazie ai due personaggi che sono in copertina, Lia Salvetti e Luciano Rocca, industriale di Brescia, la leonessa d'Italia, quindi cuore grande come proprio si deve a una leonessa e tutta la loro famiglia, hanno dedicato a noi, ci hanno dato la possibilità grande di andare in televisione. Siamo su Wall TV, siamo su Sky e grazie, il nome è sempre Samurai Channel, è sempre Samurai, siamo sempre noi, in un modo diverso, quattro volte alla settimana, lunedì e giovedì la luna del pozzo, giovedì e sabato Samurai Channel, quattro volte alla settimana, noi contiamo di fare sette giorni per sette Samurai o sette Samurai per sette giorni, avere un nostro concetto di un telegiornale delle arti marziali. Ci arriveremo, questo è il principio. All'interno, oltre al discorso alla copertina con Lia Salvetti e Luciano Rocca, noi abbiamo l'inserto da kickboxing di Carlo Di Blasi, abbiamo l'inserto del Kung Fu tradizionale di Sifu Alessandro Colonese, nonché quattro pagine dedicate al kickboxing di Gino Vetrano, il quale nel 25 aprile avrebbe dovuto organizzare un suo mondiale in Sicilia a Marsala. Ma con il coronavirus tutto è teorico, un interrogativo giorno per giorno perché non sappiamo né quando si avranno le palestre né quando potremo veramente iniziare a vivere, respirare e lavorare come lavoravamo prima. Mi è arrivata in questi giorni la rivista che tengo in mano Aiki Gosindo del maestro Roland Morotò, personaggio eclettico, pittore, scultore, spassionato di arti marziali, maestro di Jiu Jitsu e di Kangizu. Un articolo all'interno ci ha fatto molto piacere. Italy, un'affaire de logo, bien fini. Abbiamo vinto, abbiamo vinto la battaglia del logo che è stata una battaglia a livello tribunale europeo, però non ci sono per noi vincitori vinti. Perché noi non pretendiamo niente, ma non pensiamo che gli altri vogliano prendere qualcosa da noi. Quindi la cosa si è conclusa, noi siamo felici di quello che abbiamo, soprattutto siamo felici che Samurai possa andare avanti. Dateci una mano perché è la vostra rivista, è il vostro giornale e utilizzatela per quello che è. Grazie ancora, buon Samurai a tutti e 45 anni, oggi non c'è lo spumante, ma è come se ci fosse. Un brindisi per tutti. Grazie, buon Samurai a tutti.